non l'ho non l'ho vista la partita ieri ragazzi comunque in Milan partiamo dal Milan in Milan cosa fa manda via Maldini fa il mercato con l'algoritmo e poi dopo si stanno vedendo i risultati Pioli è un allenatore che è stato basciato dalla fortuna non si sa come possa aver vinto uno scudetto ma quello è merito è demerito nostro perché glielo abbiamo fornito su un vassoio d'argento lo scudetto al Milan ma loro si stanno auto eliminando da soli occhio però a una cosa occhio alla Juve perché loro lo sapete non ho mai pianto sugli arbitri non mi sono mai attaccato a queste cose però c'è un venticello strano ho visto un vento strano soprattutto nelle ultime due tre partite cioè la Juve quando è in lizza per obiettivi importanti spesso e volentieri l'aiutano e questo è un dato di fatto guardate l'ultimo arbitraggio che fece Calvarese dove successe di tutto tanto ormai Calvarese stava per smettere non aveva non aveva nulla da perdere perché temere la Juve? la Juve va temuta per due motivi non perché gioca a calcio fanno ridere questi la Juve è l'anticalcio per eccellenza non giocano le coppe e se concorrono per un obiettivo vengono sempre aiutati è una roba matematica loro se sono in alto li portano ancora più su per quello sono per i olossi non perché sono forti e giocano bene a calcio attenzione anche se hanno dei buoni giocatori ma per come la vedo io non vengono sfruttati al 100% l'anno scorso loro vissero una partita un tocco di mano di Rabiot poi dopo sconfissero noi dove in un'azione ci furono tre tocchi di mano di cosa stai ragionando? tre tocchi di mano tra Vlaovic e Rabiot te lo ricordi o no? per quello bisogna stare attenti perché sono pericolosi poi dopo cosa successe? che li squalificarono e poi dopo non li aiutarono quasi più perché tanto ormai per loro era quasi impossibile la qualificazione in Champions ma fino a quando se fai mente locale sono stati in corsa sono sempre stati portati in collo dalla mammina attenzione per questo vanno temuti non giocano le coppe e se concorrono per un obiettivo importante sono in delle posizioni importanti vengono sistematicamente aiutati e non lo so dove è il cinese Ziliacus ma la redibilità di Ziliacus penso che si cioè voglio dire si sia vista dovevamo imparare l'Inter due anni fa aspetto la Champions faccio l'offerta poi non ce l'ho poi ce l'ho ma di cosa stai ragionando? oltre a questo noi dobbiamo sempre accendere un cielo tutte le partite perché davanti i due giocatori che abbiamo davanti i due fuoriclasse che abbiamo davanti vanno preservati come dei panda perché se disgraziatamente chi è scaramante o si tocchi pure uno dei due si fa male noi siamo nella cacca perché Arnautovic e Sanchez sono due giocatori da partita in corso sia per tenuta fisica sia per mentalità soprattutto Arnautovic può giocare una partita così ma non è un giocatore non è un degno sostituto degli attaccanti Sanchez lo stesso ragazzi Sanchez ti può fare anche gol ma ti fa due tre azioni in una partita poi spadisce guarda al di là del gol guarda al di là del Buretto questo dobbiamo sperare per quello a gennaio serve un attaccante che sia che possa essere in grado di sostituire i due titolari e questo è il problema grosso che ha l'Inter indipendentemente dal fatto che è una squadra maturata è una squadra cazzuta tosta con carattere non aveva questo carattere l'anno scorso l'Inter qui è migliorata bisogna riconoscerlo perché quando c'è da criticare i segreti ma quando c'è da lodare bisogna lodare dove volevi andare con i cinese fammi capire quindi occhio vediamo ora chi compra l'Inter ma scusa ma non stava rifinanziando ora c'è l'offerta di di parrucchino ragazzi ma di cosa si sta ragionando guarda mi metto fermo voglio aspettare va bene nel frattempo parliamo solo di calcio ciao Inter ci mettiamo più tardi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti